Si svolgerà domani il Bomba Day a Carmignano di Brenta, ad essere coinvolti anche i comuni limitrofi di Gran Torto e San Pietro in Gu. Le operazioni di disinnesco della bomba da 200 kg MK-18, lanciata da un veivolo inglese durante la Seconda Guerra Mondiale per danneggiare la ferrovia, cominceranno alle 8. Al secondo reggimento del genio Guastatori di Trento, il delicato compito di rendere inerme la bomba dotata di due spolette armate e di un grande quantitativo di esplosivo. La zona rossa si estenderà per 700 metri dalla bomba, mentre l'area gialla si estenderà per 1300 metri. L'area rossa verrà evacuata, mentre nell'area gialla sarà vietata la circolazione, la sosta e di uscire di casa. Il centro di coordinamento dei soccorsi sarà allestito nel municipio di Carmignano. Ad essere coinvolti domani saranno tutti gli organi di pubblica sicurezza, oltre che Trenitalia e distribuzione ANAS, TERNA, ENAC e ENAV. Le operazioni termineranno circa verso le 12. Spishmar Channel News, Carmignano di Brenta.